ma io 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 dico solamente una cosa no io sono il primo a criticare i cinese a dire così non si può andare avanti tutto quello che ti pare tutti sanno che ormai l'Inter prende i soldi in prestito per metterli nel club circa quattro anni ormai no ma di qualche personaggio che parla della Juventus basta vedere la colorazione dei capelli per vedere com'è messo per vedere il suo status e guardagli il colore dei capelli e da lì già capisci com'è messo è uno che parla della Juve su YouTube perché la situazione debitoria eh dell'Inter è nota a tutti ragazzi cioè non è che l'abbiamo resa nota noi la conosca tutti la situazione debitoria dell'Inter con debiti ed impegni finanziari ed è sotto controllo sia della FIGC che di tanti altri organi di controllo perché chi ha dato la certificazione è andato a vedere i bilanci di Grand Town però io ragazzi cioè io posso capire tutto ma uno Juventino parliamoci chiaro uno Juventino che viene a fare le pulce a me che sono un tifoso dell'Inter che hanno chiuso un falso in bilancio e la manovra stipendi e una multa da settecento mila euro che solo quest'anno hanno due calciatori squalificati uno per doping e uno per calcio scommesse e non gli hanno tolto un punto ma di cosa stiamo ragionandovi ma dove stiamo arrivando? Gli Juventini che fanno le pulci a noi un presidente si dimette perché ha paura di essere arrestato perché ora un pochino va bene poi basta ragazzi la Juventus football club o come la chiamano SPA SRL SNC società nome collettiva come chiamatela non la so nemmeno chiamare io quella squadraccia perché ora ci hanno rotto i coglioni questi della Juve la Juventus è stata condannata in sede penale sempre sempre bisogna ricordargliele queste cose avvengano a fare le pulci al litio lo sanno tutti che il cinese non ha un euro lo sanno tutti è scomparso lo sanno tutti che campa grazie a Doc 3 e lo sanno tutti che cambierà la proprietà ma voi non siete in grado di romperci i coglioni voi dovete stare muti perché siete stati condannati in sede penale sempre condanna di calciopoli ti ricordo primo secondo e terzo grado condanna di calciopoli siete stati condannati in primo il secondo e in terzo grado condannati dalla giustizia sportiva registrano questo video e guardatelo stasera prima di andare a letto condannati in avversante doping reato si è istinto solo ed esclusivamente perché è andato in prescrizione ma siete stati ritenuti colpevoli non è una soluzione anche per doping siete stati condannati con riconosciuta responsabilità penale per doping siete stati condannati anche perché siete stati condannati per doping per utilizzo di medicinali off label cosa vuol dire medicinali off label sono dei medicinali dei farmaci non conformi fuori norma anche il doping non vi siete fatti mancare nulla voi nel vostro menu tutto e voi venite a ragionare dell'it utilizzo corticostiroidi anche lì non solo il medicinale off label poi anche corticostiroidi cioè ma cosa volete voi dall'inter ragazzi ma io sono il primo che è calzato di cinesse ma voi ove fate a parlare dell'inter ma cosa rompete concludo cari gioventini ve lo faccio io un esposto ora perché fra tra versante amministrativo sportivo e giudiziario avete perso 30 sentenze su 30 muti e prima di parlare dell'inter sciacquatevi la bocca ciao